marica allora oggi conosceremo di più sul tuo lavoro perché hai deciso di dedicarti a questa professione però voglio partire prima da una tua esperienza personale che ti ha indotto da quello che io so a intraprendere un percorso di cura personale che poi ti ha portato a dedicarti agli altri perché hai deciso di fare questo lavoro che esperienza vissuto allora innanzitutto questo lavoro parte da una dalla mia più grande passione ok quello di dedicarmi a me e automaticamente dedicarmi agli altri e trasmettere quello che è la passione per per lo sport soprattutto per il fitness e tutto l'ambiente diciamo della cura del corpo ad altri ma diciamo che non si ferma soltanto su questo ma si ferma su un benessere che che hai nel momento in cui ti approcci all'allenamento diciamo che nella mia vita è stato tutto molto bello ma c'è una fase della mia vita molto particolare questa scelta è stata interprisa soprattutto quando ho perso mamma ho perso mia madre la perdita di mia madre come si può immaginare è un qualcosa che ti che ti dà un dolore immenso io sono una persona che nella vita deve fare tanto deve fare tanto per cercare di avere sempre tutto sotto controllo questo è stato un aspetto che non ho tenuto sotto controllo e allora in cosa mi sono in cosa mi sono precipitata nella cosa che più mi dava emozione nella cosa che più mi dava gioia e amore mi sono rimessa a studiare mi sono rimessa a studiare mi sono rimessa a studiare mi sono rimessa a percorrere un cammino che giorno dopo giorno sentivo sempre più vicino a me quindi mi stai dicendo che in seguito a questa esperienza personale di dolore poi c'è stata la volontà di intraprendere un percorso di formazione cosa hai fatto di preciso? allora diciamo che non c'è stata proprio la volontà si è fortificato ancora di più di preciso cosa ho fatto? ho cercato di scegliere la strada che più diciamo fosse completa in merito a questa situazione in merito a questo diciamo argomento e mi sono messa a studiare sono partita sono andata a Roma ho seguito i corsi a Roma in una scuola che ad oggi è forse una delle scuole più diciamo formative che è la ISSA Europe quella più formativa che ti dà diciamo il completamento quindi ci sono stati momenti dove siamo andati lì tutti i fine settimana abbiamo ripreso i libri in mano abbiamo ripreso tutto ciò che riguardava diciamo questo argomento marica c'è stato un passaggio che dalla formazione poi ti sei trasformata in imprenditrice cioè nel senso di trasformare tutto questo in un lavoro come è avvenuto questo passaggio e i primi passi che hai mosso come è avvenuto? allora i primi passi che ho mosso sono stati quelli di occuparmi domiciliarmente delle persone la prima richiesta fu proprio quella di un servizio a domicilio fu proprio quella di una necessità che una persona mi diciamo mi diceva il mio primo cliente il mio primo cliente fu proprio un cliente che sono stata a casa e sono stata a casa per cinque anni quindi per tanto tempo poi io amavo e amo tuttora l'aria aperta e quindi sono stata nei parchi all'aria aperta di ogni necessità virtù quindi praticamente hai attrezzato i parchi qui? ho attrezzato i parchi ho attrezzato il mio borsone anche la mia macchina ho attrezzato se proprio lo vuoi sapere nella macchina ci ho messo di tutto e in base agli allenamenti che poi ovviamente tu stipulavi prendevi le cose che necessitavi e li portavi con te ci hai creduto fino in fondo dall'inizio nonostante fosse difficile? sì ci ho creduto fino in fondo nonostante fosse difficile nonostante determinate cose mi remavano tra virgolette contro però ecco quando credi fortemente in qualcosa e quando credi che quel qualcosa fa parte da sempre della tua vita io credo che quella è la strada giusta questa è la chiave di lettura per un successo non solo personale ma anche lavorativo questo significa avere visione e come tu sai bene amiamo dire anche fede vedere l'invisibile io credo che tu hai intuito e hai visto tutto questo che c'era davanti ai tuoi occhi non era ancora concreto e poi si è realizzato io a tal proposito vorrei un attimo affrontare questo argomento perché sai quello del fitness spesso e lo dico da profano diciamo di questo mondo è sempre accompagnato ad un'idea di effimero sai le persone che pensano che prendersi cura troppo di se stessi sia semplicemente un fatto di vanità però in realtà dietro il vostro lavoro e io lo sto come ben sai sperimentando in prima persona c'è la volontà di indurre le persone ad un cambiamento perché come dicevano i nostri antenati latini bisogna avere una mente sana in un corpo sano questo concetto questi pregiudizi come tu li hai affrontati ci hai parlato di un'esperienza di dolore che poi ti ha portato ad un percorso di formazione abbiamo capito che veramente insomma ti sei equipaggiata di sacrificio e volontà per arrivare ad un obiettivo insomma altro che effimero mi sembra che dietro tutto questo c'è un grande lavoro c'è un grande lavoro dietro tutto questo e mi riallaccio a quello che dicevi tu prima mente sana, corpo sano allora io nel momento in cui mi trovo davanti a una persona nuova un nuovo cliente, un nuovo approccio ci tengo tantissimo a sottolineare quanto sia importante il benessere mentale è la consapevolezza del passo tra virgolette che si sta facendo perché tutti possiamo essere bravi tecnicamente tutti possiamo essere bravi se studi ma questo non è soltanto allenamento fisico questo è un allenamento che parte prima da un benessere mentale questo ti dà la gioia questo ti dà delle emozioni forti tutto il nostro mondo ti dà un qualcosa che noi a volte non sappiamo neanche quello di avere cioè noi non sappiamo di quanto siamo forti e di quanto noi possiamo spingerci in là sia a livello mentale quindi ne assumiamo delle consapevolezze e sia a livello fisico perché ovviamente tu più vai avanti e più dici si può fare la sfida si può vincere la sfida si può vincere per te che cosa significa essere personal trainer? è una missione, una vocazione? lo fai per te stessa? lo fai anche per gli altri? dammi un quadro di cosa significa per te un personal trainer? tra le cose che hai elencato hai detto lo fai per me stessa no è l'ultima cosa che io ho sempre messo davanti tante cose non ho fatto per me stessa tantissime mi sono trovata in sala tanti tantissimi anni fa e giorno dopo giorno riscoprivo quanto fosse bello spingermi oltre un allenamento sentire quella carica quell'entusiasmo quella voglia di fare questo man mano giorno dopo giorno mi faceva riscoprire sempre di più quanto gli altri potessero ricevere da tutto questo questo percorso è venuto pian pianino e tutti i giorni adesso ti posso dire che tutti i giorni lavorando con le persone riscopri che essere un trainer ed essere un personal trainer quindi lavorare individualmente con la persona e man mano farlo entrare sempre di più in questo mondo che è un mondo che ti dà giorno dopo giorno sempre nuove prove sempre nuove sfide e sempre nuove emozioni quindi essere personal trainer è un'emozione che o giorno dopo giorno cresce sempre di più sei fortunata o sei stata tenace si dice come dicevano sempre i latini ognuno è artefice del suo del proprio destino credo che tu svolga con passione il tuo lavoro e questa è la carica che mi pare riesci a trasmettere alle persone che ti seguono vorrei un attimo avviarmi verso la conclusione riflettere su questo alle persone che attraversano un momento di difficoltà e tu non puoi dire di non capirle perché ci hai parlato di un lutto di una perdita di un momento di sofferenza di anni di gavetta quindi gli ingredienti ci sono tutti per una storia umana di una storia vera alle persone che pensano di non farcela ma non parlo solo di un percorso fisico ma anche che vivono un insuccesso e una irrealizzazione personale cosa ti senti di dire? allora io mi sento di dire a queste persone che nella vita si attraversano sempre delle fasi dove ci mettono a nudo e ci mettono di fronte a delle paure delle incertezze del non dire continuamente nel dire anzi scusami continuamente a noi stessi no ma io non ce la farò mai ti dico che ognuno di noi ce la farà sempre laddove nasce la volontà di volerlo fare quindi mai fermarsi davanti agli ostacoli cercare il canale giusto per intraprenderli cercare quel piccolo spiraglio di luce in fondo ai tunnel ci sono sempre gli spiragli di luce noi li dobbiamo vedere però cercarli in maniera tenace in maniera consapevole e con quell'amore che giorno dopo giorno dobbiamo riempire dobbiamo riempirci e riempire gli altri noi siamo fatti di un'anima noi siamo fatti di di quell'anima che deve essere nutrita sempre e se troviamo quel giusto ingrediente che nutre l'anima io credo che lo spiraglio di luce si trova sempre e una buona anima alberga anche in un buon corpo e questo lo dico soprattutto a me stesso senti poi ci spiegherai come fai a essere mamma moglie hai anche gemelli quindi poi su questo diciamo faremo un'altra intervista ah sì va bene però concludiamo così io che ho conosciuto il tuo lavoro so che per te è fondamentale il team e questo è un aspetto che mi riguarda e mi interessa molto la capacità di delegare di farsi aiutare e di aiutare sì e tu sei circondata da due collaboratrici valdissime molto Federica e Martina e parlaci questa collaborazione in che consiste allora questa collaborazione consiste come hai detto tu due collaboratrici valide io le chiamerei due angioletti che mi affiancano perché perché sono delle due ragazze oltre che tecnicamente validissime due persone che sono entrate a far parte di un mondo dove il benessere e lo stare bene è il primo ingrediente loro sono loro sono la mia spalla forte loro sono la mia tranquillità la mia il mio stare bene lavorare in team è molto importante non è facile però lavorare in team perché trovare delle persone che ti affiancano con professionalità sicurezza amore gioia sorriso quando si entra in sala che è fondamentale è vero io lo so lo vedo che vengo qui e quindi sono stata fortunata anzi anzi vedo che scalpitano quindi diciamo facciamo un'improvvisata concludiamo così le vedo dietro la telecamera venite Martina Federica le salutiamo eccoci allora mettetevi vicino a Marica e vabbè io ho raccontato vi vedo vi vivo insomma Marica ha dimostrato in questo anche di essere una leader capace di trasmettere anche a voi dei valori degli insegnamenti quindi in questo il plauso a lei ma è così brava Marica Federica sì è davvero brava e noi non viviamo le giornate qui come un lavoro ma come ha detto lei siamo mosse dalla passione e ancora di più il farlo insieme noi ci siamo ritrovate non è facile trovare persone con cui andare d'accordo ma essere sereni e noi possiamo dire che anche in giornate no siamo sempre sereni qui Martina tu confermi il clima è questo il clima è questo non appena sono arrivata anche noi ci siamo trovata per un nostro puro caso forse e sono stata dal primo giorno colpita da una sensazione positiva quindi non è facile perché comunque il nostro lavoro ci porta a stare a contatto con più persone e non succede con tutti quindi è stato però brave trasmettete la carica positiva chi viene qui io ne sono la prova concludiamo così con un auspicio per voi che il meglio deve ancora venire ci crediamo ancora venire grazie e buon lavoro grazie a te Ale